Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio su Genova, quanto valgono i partiti alle elezioni comunali. Il PD risulta il primo partito con il 21,4%, mentre la lista Bucci vince Genova è al 20,2%, seguita da Genova Civica dell'Ostrologo 9,5%, poi lista Totti per Bucci 7,3%, che prevale sia pur di poco sui partiti del centrodestra. Fratelli d'Italia al 7%, Forza Italia e Lega al 6%, Movimento 5 Stelle al 6,7%. Nel complesso le liste a sostegno di Bucci raggiungono il 50,6%, quelle a favore di Dell'Ostrologo il 41,9%. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo presto. Grazie a tutti.